Sono Di Chiaralessio e ho 29 anni. Circa tre anni fa ho cominciato a notare una lieve perita di capelli e un innalzamento della linea delle tempie, diciamo. Quindi ho pensato di risolvere subito il problema e nonostante io sia andato da vari tricologhi della zona non ho praticamente ottenuto risultati. Un giorno per radio ho sentito dell'Istituto Helvetico e siccome la visita era gratuita ho pensato che era di chiamare appunto perché volevo risolvere il problema, diciamo. Ti fanno una visita molto completa e quindi comunque ti espongono il problema che hai, comunque ti lasciano libera scelta se continuare o no con i loro prodotti o comunque con i trattamenti che devi andare a fare nel corso dei mesi successivi. I risultati sono stati ottimi sin da subito perché grazie ai prodotti praticamente il cuoio capelluto era molto pulito e la caduta si è arrestata quasi subito e inoltre ho avuto la fortuna che comunque ho avuto molto volume e sono infoltiti moltissimo già dopo i primi mesi di trattamento. No, difficoltà di utilizzo dei prodotti no, anche perché comunque nonostante sia diciamo un piccolo impegno, ma alla fine lo facevo prima di andare a dormire, quindi erano questioni di un quarto d'ora, venti minuti, quindi comunque visto il risultato che ho ottenuto poi alla fine è tempo guadagnato. L'intervento è stato diciamo facile, nel senso che comunque non mi sono accorto di nulla e mi hanno messo subito a mio agio e anche se è durato 4-5 ore comunque è stata una cosa abbastanza semplice perché lo staff appunto era ottimo, mi hanno messo a mio agio senza problemi e quindi da quel punto di vista lì sono stato molto soddisfatto anche perché la struttura era molto bella e sembrava tra virgolette stare in vacanza diciamo. I risultati sono stati che praticamente sono ritornato a essere come ero 3-4 anni fa, quindi con la stessa capigliatura forse anche meglio dal punto di vista estetico e quindi da quel punto di vista lì sono rimasto molto contento. I benefici sono stati tantissimi perché comunque tenendoci molto alla mia capigliatura la cosa che più mi dava fastidio in questi ultimi 3 anni quando ho cominciato ad avere la prima caduta il fatto che appunto io tettinarmi eccetera dovevo comunque stare molto per il fatto di fare degli accorgimenti per non far vedere appunto che stavo cominciando ad avere una lieve periodo di capelli e quindi il primo beneficio comunque è questo cioè nel senso che tornare a essere esattamente come 3-4 anni fa senza che nessuno abbia notato niente perché diciamo che ho preso in tempo il problema e quindi questo direi che è un gran risultato per me. L'istituto lo consiglierei sicuramente per visto i risultati che ho ottenuto e anche perché comunque i prodotti sono sicuramente molto validi perché comunque oltre alla pulizia restano sicuramente la caduta. Lo staff è ottimo comunque le dottoresse sono molto preparate che ti seguono passo dopo passo e quindi i risultati anche da questo punto di vista sono sicuramente garantiti. Grazie.